Presidente, si fa un gran parlare sulla vulnerabilità delle scuole. A che punto è il piano di vulnerabilità degli istituti superiori terramani? Ci stanno rimettendo i tecnici risultati. Io ho chiesto intanto di mandarci a tutti i professionisti una relazione sugli esiti, poi la documentazione va bene anche con un pochino più di calma perché sono state indagini molto complesse. E approfondite. Su alcune scuole abbiamo dei risultati molto positivi, su altre naturalmente dei risultati che non sono soddisfacenti. Voglio avere il quadro completo della situazione, dopodiché ci siederemo e verificheremo sulla base delle risorse a disposizione, di quelle che possiamo ottenere e di una strategia complessiva dove intervenire, cosa fare e cercare di mettere in sicurezza tutta la popolazione studentesca. È una situazione ovviamente molto complessa, però tutto sommato il lavoro sta procedendo bene. Alcuni professionisti sono leggermente in ritardo rispetto ad altri, ma per questione esclusivamente di ulteriori indagini, ulteriori accertamenti che si sono resi necessari. Per cui a breve, penso nel giro di una decina di giorni, io avrò tutti i risultati. Farò un summit con gli uffici, con il consigliere delegato e poi faremo anche una conferenza stampa per presentare i risultati e anche le strategie che porremo in essere. Nel frattempo ho avuto un colloquio con il direttore dell'ASP, che è proprietario dell'area lì, che va su Piazza Dante, Regina Margherita e così via, per cercare di capire se vi sono le disponibilità a un ragionamento che possa prevedere lì anche delle nuove strutture. Però questo è un discorso più complesso e che si innesta in un ragionamento che riguarda anche la strategia di crescita e di sviluppo della città di Terra. Presidente, nel momento in cui appunto dei risultati non saranno consoni a quelle che sono le aspettative, per quegli istituti come ci si comporterà? Perché è chiaro che in un paio di mesi non si riusciranno a compiere tutti i lavori di messa in sicurezza. Bisognerà vedere le criticità, laddove ci sono criticità che tutto sommato però riescono a comunque ancora mantenere, perché poi il numeretto che esce è importante ma non è risolutivo e lì si farà una strategia complessiva anche di lungo termine e nel frattempo verificheremo come poter migliorare la sicurezza. Laddove le criticità invece saranno particolarmente elevate vorrà dire che si procederà alla loro chiusura.